Dopo l'allenamento di Lugano siamo con Ryan Bessi. Ryan, tu hai avuto il primo gioco con Lugano, come ti senti? Mi senti abbastanza bene. È stato il primo gioco che ho avuto in più di un mese, perché ero in Russia. È stato un po' molto tempo di tornare all'inizio, ma mi senti abbastanza bene. Per me, il primo gioco, ho avuto alcune possibilità. Probabilmente avrei avuto alcuni gol, ma ero felice con la forma che ho avuto. Hai avuto a Classen e Mortensen come gioco, in tua carriera hai avuto come gioco. Come ti ha cambiato il gioco per te quando gioco? Ho avuto in gioco 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 in gioco. Ho avuto un gioco in 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 gioco. Non è molto grande. Quando hai due gioco come Tony e Linus, pensano il gioco bene. E' proprio come gioco in gioco. Ho avuto una buona chemistra per la prima volta. Come hai detto, hai già giocato 7 gioco questa settimana. Era difficile andare in gioco in gioco in gioco? Non, ho avuto treggiare molto, quindi ho sentito abbastanza bene. Credo che mi continui a tornare bene come il gioco in gioco in gioco. La sensazione del gioco, la sensazione del gioco, la sensazione del gioco, tutto quello. Ma, inoltre, qualche spazio l'anno scorso. Potrebbe essere un buon giorno per me. Come si è avuto a fare in gioco in gioco in gioco? Era una situazione molto strana. Come si chiama e gioco a giocare in gioco in gioco? Cos'è la prima volta che hai giocare in gioco in gioco in gioco? Quali sono le differenze attività che potete vedere in questi giorni? Abbiamo gioco i gioco corrisani, c'è quello originale per me. la differenza del stile di hockey è un po' più agressivo in the Swiss League, magari avete visto l'ultima notte la squadra russiana con 4 uomini sulla linea questo è più o meno il stile in questo modo è un po' più divertente perché è un po' più attivo, un po' più agressivo e hai bisogno di usare la speed, la quickness e provare a creare turnovers, quindi sono piaciuto quali sono i principi aspetti di vostra stile? definitivamente il mio senso di hockey, ho fatto fortuna ho messo il puck in il net, ho messo il net e mi piace andare in queste zone, sono le cose che mi rende successivo questo tournament è una buona opportunità di presentare a te stesso, hai alcune opzioni sull'ultima, c'era il rumore che Clotin era interessato in te, è vero? no, non ho parlato, non ho parlato con Lugano non ho parlato con altre squadre, ho parlato con le squadre in alcune leaglie e alcune offerte ma non mi sento che era il proprio fit prima che ho accettato a venire al tournament quindi ho deciso di venire al tournament e mi raccogliare un po' più e spero che sto facendo in questo tournament, hai possibilità che potete facevi i miei primi team di Dinamo Minsk? come si sente? sì, hanno un'altra squadra molto buona questo anno, hanno giocato molto buon hockey e se vi face them, I know it'll be a tough game ma it'll be fun it'll be fun to face my old teammates hopefully come out on the winning side so e so vi 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 Grazie.